8 giorni fa, gli ultimi 6 giorni è il più bello del mondo, ci spacchiamo di brutto. Questo è un pezzo che ho scritto con Luca Venturelli, ma testi di Guido Benedetti, di Lj. Leone e di Lanicoti, messicchio. Va bene, questa si chiama Escape from Reality, c'è anche il video su YouTube, andatelo a vedere e fate crescere le views, grazie, che anche se non abbiamo le tette, abbiamo bisogno di views. Grazie. 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 Grazie.